Musica Abbiamo finalmente visitato questa struttura unica in Italia che mette insieme anziani e bambini quindi un servizio polifunzionale benché con strutture separate dove si sommano tre possibilità per le nostre comunità quindi un asilo nido per bambini da 0 a 3 anni, un centro di urno per anziani non autosufficienti e una struttura residenziale invece sempre per anziani autosufficienti. La cosa notevolissima è la fluidità degli spazi e quindi la possibilità di trascorrere dei momenti insieme tra anziani e bambini di cucinare, di fare dei dolci, di leggere dei libri questo rende gli anziani meno soli, meno isolati e i bambini molto più ricchi di esperienze e di relazioni per cui devo dire che Unicop ha fatto un lavoro eccellente in questo caso insieme anche al comune, all'amministrazione e c'è l'idea di un bene comune, cioè di un servizio che è frutto dello sforzo di tantissimi soggetti. Siamo davanti all'insegna del centro anziani e bambini insieme di Piacenza, centro intergenerazionale che ospita un nido di infanzia per 42 bambini nella fascia d'età 0 a 3 anni, una casa di riposo per 54 anziani e un centro di urno per 25 anziani. È il primo centro in Italia che prevede attività di tipo intergenerazionale tra anziani e bambini. È un servizio che ormai da 12 anni portiamo avanti come cooperativa Unicop, di cui siamo molto orgogliosi perché al proprio interno vede svilupparsi relazioni, momenti di scambio, esperienze, letture, attività, pranzi assieme tra anziani e bambini. Questa è un'esperienza che a Piacenza ha potuto realizzarsi grazie sicuramente alla cooperativa ma grazie alla rete di istituzioni, regione, provincia, comune, che si è raccolta per promuovere questa esperienza. La visita di oggi del vicepresidente Elisabetta Gualmini è motivo d'orgoglio per noi piacentini. L'abbiamo portato e lei ha accettato l'invito all'interno di una struttura che è un unico in Italia. Quindi ne andiamo anche orgogliosi perché qui si riesce a unire l'anziano, la terza età con il nido. È un progetto sperimentale, è un progetto che davanti a diversi anni, che unisce, e di questo siamo anche felici, il pubblico e il privato a dimostrazione di come sui servizi la Regione Emilia-Romagna e anche il territorio di Piacenza possa essere all'avanguardia e cercando soprattutto di far sì che progetti come questi possano essere e fare un po' anche da volano per quanto riguarda anche altre esperienze sperimentali. Il sociale non solo come soluzione dei problemi ma anche come realtà economica. All'interno di questa struttura lavorano oltre 50 dipendenti e proprio per questo motivo esperienze come queste devono essere esperienze conosciute e veicolate anche al resto della Regione, al resto anche degli altri operatori economici e del mondo del pubblico. Perché anche sul sociale ci vuole coraggio, perché tramite il coraggio si riescono anche a sviluppare servizi che siano in grado di seguire quelle che sono le nuove esigenze e anche le nuove capacità progettuali su questo tema.